Ben ritrovati qui su Mekai Tech, siamo pronti a fare l'unboxing del BlueBoo Maya Max Che più max non si può, dimensioni incredibili Andiamo ad aprire subito la confezione, ma prima di iniziare come sempre mi raccomando Iscrivetevi al canale, un bel polliciatto e condividete il link di questo video con i vostri amici Per far conoscere Mekai Tech, mi raccomando, mi raccomando, aiutatemi a far crescere il canale Andiamo ad aprire spacchettando questo pacchettino che è davvero molto facile E strappare, non serve neanche troppa cattiveria questa volta, molto molto bene Eccolo qui, BlueBoo Maya Max nella sua scatola di cartone, molto economica Effettivamente il prezzo del telefono, fra un po' ve lo dirò, non è poi così elevato Abbiamo delle caratteristiche, come potete vedere, comunque di tutto rispetto E soprattutto abbiamo un phablet, ossia un display da ben 6 pollici Vado ad usare un attimo la telecamera in modo da riprendere tutta la scatola Ok, ce l'abbiamo fatta, andiamo a sollevare finalmente la confezione Vediamo se si apre, sempre bello, sempre emozionante 1, 2, 3, olè, si ragazzi anche questa volta non c'è il classico mattone delle fregature Ma c'è un mattoncino, un BlueBoo Maya Max Evviva, saranno contenti quelli di Cicci e Nizza, molto molto bene BlueBoo Maya Max, eccolo qui, guardate intanto subito, molto bello La situazione, pensavo pesassi di più, devo essere sincero, per un telefono da ben 6 pollici Andiamo a vedere cosa contiene ancora la scatola Vediamo se si tratta della solita scatola a mezza vuota Ok, abbiamo tirato fuori proprio tutto, vediamo, vediamo Ok, eh no, ragazzi, è ben fornita Ok, sì, c'è il classico caricabatterie Che già vi anticipo, vediamo se riusciamo a vederlo senza aprirlo Da 5V 2A, comunque dovrebbe anche supportare la ricarica veloce Ok, abbiamo il classico cavetto USB, però Type-C, attenzione, quindi Type-C non è micro USB Quindi, occhio Poi abbiamo in dotazione anche, guardate, guardate, una pellicola protettiva Vabbè, come non averla, io non le applico quasi mai, a meno che non siano quelle di vetro temperato Abbiamo poi la garanzia e abbiamo poi il libretto del Quick Start Che noi, ovviamente, non andremo a leggere Pulizia del vetro, sì, c'è anche questo C'è anche lo sticker per tirare la polvere prima di applicare la pellicola E addirittura abbiamo anche una cover in silicone Ricorda un po' quella del One 601 che abbiamo appena visto Con questi pallini pigiamini Mamma mia, anche questo forse si metterà a letto Forse, ehmai, tanto tempo fa piaceva anche dormire Andiamo a vedere però il telefono Che è sicuramente la cosa più interessante Vi ricordo, non ve l'ho detto, ma ve lo dico ora Prezzo 150 euro Vi portate a casa questo telefonone Guardate un po', fa fatica addirittura a uscire da quanto grande è Mamma mia che roba, incredibile Guardatelo, guardatelo qui, la versione pomposa del Blue Bu Maia Eccola qui Vi dicevo in mano, non è male Pensavo davvero, pensarsi di più Ovviamente è enorme Guardate ragazzi, la mia mano fa veramente fatica A tenerlo tutto quanto tra le dita Mamma mia, guardate che dimensioni davvero esagerate Ma d'altronde lo sapevamo 6 pollici di display Abbiamo, intanto vado ad accenderlo Così vediamo anche la partenza Se c'è un po' di batteria Vado a eliminare la prima pellicola Ok, ce l'abbiamo fatta E guardate, guardate anche dietro che bello che è Davvero interessante questo Blue Bu Maia Max Abbiamo alluminio Sia per quanto riguarda il frame Sia per quanto riguarda la parte posteriore Ad eccezione di queste due bande Che sono di plastica Ovviamente il telefono è un dual sim Un'antenna qui, è un'antenna qui Supporta il 4G C'è anche la banda degli 800 Quindi la banda B20 E viva e viva Sarete contenti voi di win Ma non solo LTE categoria 6 Quindi con download fino a 300 megabit E supporta anche il volte Ossia voice over LTE Ma vediamo un po' sulla sinistra Abbiamo il carrellino per le dual sim Che è estraibile attraverso lo spillino qui Abbiamo il tastino veloce Per rendere muto il telefono Davvero apprezzabile questa cosa A parte di Blue Bu Sotto abbiamo la tab C Per andare a ricaricare il telefono Abbiamo l'autoparlante di sistema E il microfono Abbiamo poi sulla destra Bilanciare il volume Tasto di accensione e spegnimento E sopra abbiamo Il jack da 3,5 Delle cuffie Che adesso è chiuso Attraverso questo aggeggino Simpatico che hanno messo in confezione Quindi anche questa cosa Fa notare una certa Diciamo attenzione Per i dettagli Da parte di Blue Bu Abbiamo poi dietro Una fotocamera Da ben 13 megapixel Sony IMX214 Con apertura focale 2.0 Autofocus Doppio flash LED Insomma vedremo nella nostra prova Come si comporterà Qui sotto abbiamo Il lettore di impronte digitali Che dovrebbe sbloccare In 0,1 secondi Il telefono Ovviamente siamo abituati A vedere queste tempistiche Non rispettate Sotto abbiamo Il marchio Blue Bu Il tipo di telefono È Super Maya Max Mega Mega Max Vai così Disegnato da Blue Bu Ovviamente made in Cina Sta ancora partendo Ragazzi Chissà come mai Forse il primo video È più lungo del previsto Mamma mia Speriamo che non sia Sempre così lungo Lo vedremo comunque Nella recensione Davanti Abbiamo una fotocamera Da 8 megapixel Capsula licolare Abbiamo ovviamente Lettore di prossimità E di luminosità Abbiamo a bordo Marshmallow 6.0 E come telefono Devo dire La prima sensazione È molto molto buona Il materiale Il grip Non è elevatissimo Per fortuna Abbiamo la nostra cover Vediamo come sta Con la sua copertina Pigiamina Qui Mamma mia Fa addirittura Fatica a entrare Da quanto ciccione Ragazzi Guardate che roba Forse poi Non riuscirò mai più A togliere Meglio che mi fermo Sì Forse è proprio Meglio che mi fermo Guardate qui comunque La sensazione È di avere veramente Un bel pigiamino Per andare a nanna Brava Blubu È sempre una delle nanne Viva 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 Siamo in attesa Che parta Comunque vedete Abbiamo gli angoli Che sono leggermente Smussati Per facilitare L'impugnatura Abbiamo come display Un 6 pollici HD JD OGS 1280x720 Gorilla Glass 4 E supporta 10 tocchi Io spero parta Per riusciverlo A farvelo vedere Il primo avvio Davvero molto lento Chissà come mai Speriamo bene Abbiamo un doppio touch layer Che vi permetterà Di utilizzare Almeno secondo Quanto dichiara Il produttore cinese Il telefono Anche con i guanti O con le mani bagnate Staremo a vedere Proveremo Anche a questo Intanto mi sono accorto Che mi sono sporcato Tutta la mano Per cancellare I dati sensibili Dalla confezione Mamma mia Che roba E Max È un disastro Per il prezzo Abbiamo delle caratteristiche Diciamo da medio gamma Non è sicuramente Al top Ma ovviamente A 150 euro Non potevamo Pretendere di più Vi lascio in descrizione Il link per l'acquista Se siete interessati Ecco che è partito Prima avvio Leggermente più lungo Del normale Probabilmente perché Si è andato Ad installare E a configurare Per l'uso Il peso Beh Siamo sicuramente Oltre 200 grammi Bello pesantino E' bello pesantino Però vi dicevo Pensavo peggio Per un display E per un telefono Così grande Dimensioni Abbiamo 81 mm Circa Per 162 Per 9 mm Di spessore Insomma La prima situazione È che in mano Si fa davvero fatica A tenere Andiamo a sbloccare Vediamo la Sistema operativo Che vi dicevo Essere Android Marshmallow 6.0 Come vedete È personalizzato Ovviamente Da Blue Book Con la sua ROM Andiamo a vedere Subito i setting Vedete È abbastanza reattivo L'avvio Mi aveva fatto preoccupare Invece guardate È molto reattivo Da questi primi momenti Di utilizzo Che stiamo facendo insieme La patch sicurezza Di Android È del primo maggio Chissà se ci sono Nuovi aggiornamenti Speriamo di sì Per questo telefono Vedete Comunque abbiamo Le classiche impostazioni Da Android 6.0 Marshmallow Versione Mediatek Abbiamo il turbo download Abbiamo la possibilità Di andare A impostare I vari permessi Insomma Le classiche cose Che abbiamo già visto Sui telefoni Con Marshmallow 6.0 Mediatek Abbiamo come processore Il Mediatek 6750 Octa-core A 1.5 GHz La GPU È una Mali T860 MP2 3 GB di RAM LPDDR3 Della Samsung Con 32 GB Di ROM interna Espandibili Rinunciando ovviamente A una micro SIM Tramite micro SD Fino a 64 GB Vediamo se c'è qualcosa Da aprire Beh apriamo la fotocamera Per vedere Di scattare una foto Dal Maya Alla piramide di Cicenizza Così possono vedere Il loro lavoro Come sta ancora resistendo Scatto Non velocissimo La messa a fuoco Avete visto Non eccezionale Come rapidità Comunque Grandi Maya Anche questa volta Avete fatto qualcosa Di buono Probabilmente Le importazioni Della fotocamera Mi sembrano quelle standard Vediamo Forse c'è qualche opzione In più Più o meno Mi sembra di vedere Le solite caratteristiche Abbiamo foto full size Oppure 4 terzi 13 megapixel Se andiamo in 4 terzi Probabilmente Andando a selezionare Full size Vedremo scendere La dimensione Della foto In quanto verrà fatto Uno zoom Fondamentalmente Di ciò che stiamo Puntando con la fotocamera Abbiamo alcune opzioni Peep mode Ecco vedete Ad esempio Per fare una foto Ciao ragazzi Sono qui Mac i tech Dritto dallo studio Più studio che c'è Mamma mia Max Aiutami tu Vedete Comunque Buono reattivo Abbiamo anche Un'altra caratteristica Molto interessante Vediamo se si riesce A aprire una music Di test Non si può vedere Questo penarello Scusate ragazzi Mamma mia Che brutte figure Comunque Vedete Non abbiamo niente Per provarlo Ma il telefono Monta il chipset Per l'applicazione Di NXP Con avanzato sistema Wi-Fi Che dovrebbe permettere La presenza Anche dei bassi Quindi staremo a vedere Durante la nostra Settimana di uso Intenso Abbiamo ovviamente Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802 11 A BGN GPS A GPS GLONASS Insomma Abbiamo le caratteristiche Davvero buone Per un telefono Di questa fascia Di prezzo Batteria Ovviamente integrata 4200 mAh 4,35V Con il supporto A ricarica veloce Che dire ragazzi La prima sensazione Mi sembra buona Devo dire Che sembra Come sempre Che Blublu Abbia fatto un buon lavoro Sia per quanto riguarda I materiali Che a primo impatto Non mi sembrano Affatto male Sia per quanto riguarda La fluidità generale Del telefono A primo impatto Ovviamente Lo andremo a stressare Moltissimo Per vedere Se le prime sensazioni Che ci ha dato Vengono confermate Londra La regina Elisabetta Ce l'ha inviato Per fare un bel test Sul lato destro Invece abbiamo Direttamente Da Bim Bum Bum Once Di Bim Bum Once Incredibile ragazzi Due telefoni Da circa 60 euro Che si sfidano In questa sfida Stati con noi Per vedere Chi sarà il vincitore Tutti Una Di 팬�